Che vuol dire che non siamo contati mai un figo secco per lei? Non mi fate foto, ok? Dov'è la produzione? Non mi potete più riprendere. Ok? Francesca no, non voglio essere né ripresa, non siete più obbligati a riprendermi, no e no. Scusate non potete, ma io non ho parole, guarda. Mi prendete le valigie per favore, mi chiamate un taxi, come funziona? Non puoi fare?